Calunni a dire che lasciamo morire i bambini, noi siamo quelli che in rapporto agli sbarchi abbiamo salvato più migranti degli altri governi. Il Premier Meloni alla Camera difende l'operato del governo. L'Italia è stata lasciata da sola a fare questo lavoro fuori dai confini nazionali e torna a chiamare in causa l'Europa. Serve una missione europea. Passaggio anche sull'invio di armi a Kiev. Se noi ci fermiamo, consentiamo l'invasione dell'Ucraina. E per l'emergenza siccità ha annunciato che il governo sta lavorando a un provvedimento urgente a un piano idrico nazionale. Critica invece sul messa non è un totem, occorre renderlo uno strumento utile.